bisogna lavorare secondo me bene ogni settimana abbiamo visto specie nel secondo tempo una volta che abbiamo trovato il gol abbiamo preso sicuramente l'abbiamo fatto sicuramente meglio e quando si equilibra di testa è più facile ti hai avuto due o tre occasioni importanti una poi sei arrivato sul lancio di Damonte in verticale a prendere la parra quasi di esterno destro per scavalcare il portiere lo sei anticipato, in quel momento lì ti ho visto proprio disperato era l'occasione che poteva darti il doppio vantaggio del riposo sì, alla fine è un momento perché puoi ripensare… Grazie.